Ci vuoi parlare un po' di questo trofeo dedicato a Daniele Pecci che è giunto alla 36esima edizione e si svolgerà tra Bellari e Gea Marina. Ci vuoi dire un po' da cosa trae origine? Trae origine questo torneo dalla morte di Daniele avvenuta 37 anni fa. Il presidente allora, Ferruccio Giovanardi, che poi ultimamente 8 anni fa è morto anche lui, ha avuto l'idea di organizzare questo torneo unitamente all'azienda di soggiorno di allora ed è venuto fuori una bella manifestazione che adesso stiamo portando avanti e incrementando assieme all'amministrazione comunale, Fondazione Verde Blu e con la collaborazione tecnica dell'USD Gea Marina Mondo Calcio che in questi ultimi 15 anni l'ha fatto crescere notevolmente ed è uno dei tornei più qualificati della categoria giovanissimi. Tant'è vero che una squadra giapponese ha chiesto di voler fare un torneo in Italia e ha scelto il nostro torneo per qualità e organizzazione e siamo stati molto soddisfatti di questa situazione. La cosa ci riempie di gioia e vediamo di fare bene anche quest'anno.